Acqua cristallina, spiaggia accessibile ai disabili, servizi dedicate ai bagnanti di tutta l'età. La Sicilia si prepara all'estate proponendo a residenti e turisti piccoli angoli di mare dove poter trascorrere serenamente una giornata sotto l'ombrellone. Per il secondo anno consecutivo quindi Marina di Ragusa si conferma bandiera blu, compresi il litorale di Ispica, quindi Santa Maria del Focale, i tre tratti di Ciriga e Pozzallo con i siti di ragazzina e pietra nere. E proprio Ispica e Pozzallo hanno conquistato anche le bandiere verdi come spiagge a misura di bambino. Per quanto riguarda Marina, l'amministrazione è intanto al lavoro al fine di garantire nella frazione rivierasca, in vista dell'imminente stagione estiva, una serie di importanti servizi tra cui la vigilanza e la sicurezza sulle spiagge, la pulizia degli arenili, l'accesso ai portatori di handicap e l'attivazione del servizio docce gratuito. E la dimostrazione, hanno dichiarato il sindaco Picita e l'assessore all'ambiente Zanotto, dell'attenzione che abbiamo posto per il nostro territorio alla tutela ambientale, alla salvaguarda il patrimonio naturalistico e quest'azione rappresenta un modello da seguire e non solo a livello regionale.